Il Comune di Berceto deve ricevere un contributo dalla Fondazione Monte Parma per il quale si andrà a firmare un'apposita convenzione. L'amministrazione comunale di Berceto ha accolto con grande felicità e gratitudine la notizia che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Monte di Parma, nella seduta del 18 giugno scorso, ha deliberato l'erogazione a favore del Comune di Berceto di un contributo di 20.000 euro per il progetto di riqualificazione dell'asse storico urbano via Monsignor Giovanni Lucchi, piazza Giuseppe Micheli, via Pietro Caprara, piazza San Moderanno, come da richiesta del Comune stesso. Il progetto, per ora solo abbozzato dall'architetto Moreno Pivetti, prevede un padiglione del tutto trasparente e permeabile, quale elemento ordinatore del ristoro esterno. In pratica trattasi di un volume di vetoro tipo Deor, unitario, omogeneo e minimale che possa regolamentare l'uso degli spazi. La separazione tra i due distinti esercizi, ristorante, albergo, bar, darino e caffè a pennino, sarà ricavata esclusivamente all'interno tramite una partizione trasparente. Infine, meccanismi di scorrimento dei serramenti esterni consentiranno al padiglione di aprirsi completamente o parzialmente nelle stagioni calde, permettendo così un dialogo fisico oltre che visivo con gli spazi circostanti. Grazie a tutti!